quando ti do il via ripeti questo è il gesto magico no aspetta quando ti dico ripetiamo tu guardami signori e signori per la prima volta la maga Valeria vai fin qui sei brava perfetto gesto magico fai cascare esperimento riuscito fantastico bravissimo fai così fai così fai così fai così fai così no non serve a niente è solo che mi piace questa cosa ma no no questa cosa non serve a niente va bene per cui ci penso io a libera è no ciao ciao Grazie a tutti per aver guardato il video.